No, no, Niccolò, dai, non c'è un guagliario, non c'è un guaglia, vieni qua li ha. Di calcieni, vieni, ha problemi alle mani, guarda, li ha, fatti cavolo in casa. Dove è andato lui? Di là. è lei, è lei adesso che esco con Noemi, aspetto a te li dai